Amico televidente, buonoci, un bianco, è stato un privilegio per stare con il bosso, perché mi sento la falta di bosso durante un paio di giorni, grazie al signor Carlos Perdomo per partecipare nel mio luogo, ma, sin embargo mi sta back, tiene un coche no, a mi intenzione di stop quello che mi sta facendo. Bom, Papa Dio sta decidendo, e ora a cura virabiliu e mi sta muovendo, sin embargo, non sto a trovo per servire. Bosso Auto Parts and Repair Center, tra rispaldare la perspectiva nel Canal 22, dà un po' vostro sostegno e vostro servizio nella nostra comunità. allora è quello che mi dispiace molto sch�待, di wo tutti i colori, grazie a loro, grazie a Dio, sicuro, sicuro lo souzzionato, questo mi permitanza di stare qui, ma perché cari grazie a tutti, a tutti i desta Intellividente, що ci sintroduiscono Canal 22, e particolarmente Perspectiva Pueblo di Bissanosco che cittano la televisione fotocamenda BIM22 per ascoltare Perspectiva grazie per la vostra iniziative la Iglesia e la Alianza Evangélica è un nuovo sito in posto Chiquito c'è una congregazione cristiana e evangélica e il pastor è il pastor Fredrick Kelly che insomma il telefono è 5940541 è situato nella rotonda di posto Chiquito per il nord di Caminda per il bordo di Velti Universale è l'unico edificio grande che è sempre a vostra disposizione con servizio di 10 ore e altre attività durante la settimana per la edificazione di gente di tur e dat grazie per rispaldare per il nostro inglese per il nuovo come a Contents Bureau Trump and Rojas nel sabano blanco 69 sabano blanco 69 nella rotonda di Huayaca qui tamang dretti vai parriba passa FCA passa robust e il siguiente edificio grande e il netto delante per il nostro inglese per il nostro inglese per il nostro inglese dove sci meditating per il nostro inglese e inglese nell'inibili e il problema con avanti di terra incredibile o hanno un mamat o hanno intenzione nella Wuhan per la presentazione Grazie a tutti. Ando tocante Bosch Auto Parts and Repair Center, by the way, to Amper Rojas, il telefono è 5 8 8 07 40. Poi chiamare, ora qui mese se è necessario, ora qui non sta dormendo, ora qui, chiamare durante il giorno. Ok, Bosch Auto Parts and Repair Center, stava a chiamare antes Bosch Briggs. Ando, ora qui ti chiamare, Bosch Auto Parts and Repair. Auto Parts and Repair, stava a chiamare, quando ti empiezo con l'auto, ando a direccia l'auto. Ando a service auto, pièce che bocchier sa bonotà e non cammina, bo ta haia la Bosch Auto Parts and Repair Center. Sbarro Pizza, sta continuando con noi, come perspectiva, e non sta servendo e servendo a so, macha, macha bon. Non sta existi, nion gente, nion gente, viaja barica baxi. So, nel aeropuerto tiñe, barro pizza e aden. Bonti me stai quibrata la cabeza, cometen pan, haza huevo, sucia paña, joli frio. No, bo ta vai al aeropuerto, check in, ora vega y aden, bo ta sinta come bo, desayuno. Manera, deve ser, nas barro pizza, no aeropuerto, e tambe na la cabana. Tambe, senyora Jelina Machadanki, tur otro, famiglia semeler, e otto l'ancutido de nos, tur forma con Ampor, pa assina perspectiva, por queda de in aire, pa bu edificacion. Nos lemata, Cristo Jesús ta salva. 594-0541, Fredrick Kelly, e lo explicaba un poco más. Este otro viaja, la perspectiva.